Ciao, ti chiedi spesso come puoi cambiare il mondo, come puoi aiutare chi sta passando un momento poco felice. In questo video ti do una pista. Ti chiedo di fare così. Sì, partendo dal principio che non c'è separazione tra le anime e che dunque siamo in collegamento con tutto l'universo che ci circonda, partendo da una grande intenzione che è quella di portare salute, felicità in tutto l'universo, tutti i colleghi alle infinite energie cosmiche, con una forte intenzione, con la fede che questa tua intenzione è già partita verso tutte le regioni dell'universo, tu stai creando, stai portando la tua vibrazione contenuta in quell'intenzione in tutti i luoghi di tutta la Terra e di tutti i pianeti, perché tutti sono collegati tra di loro. Allora, un'intenzione forte, una consapevolezza di essere in costante collegamento con tutto l'universo che ci circonda. E così avrai portato energia positiva dappertutto, in tutti gli universi. Allora, fallo, fallo quando lo senti. Colli quell'emozione d'amore che chiede di essere condivisa attorno a te. E allora, tutto sarà meraviglioso e già fatto. A UG!